Buongiorno, ben trovati. Il mattino 6 di martedì 7 giugno 2016, la nostra consueta rassegna stampa che apriamo con il santo del giorno. Si tratta di San Roberto, nacque a Gargrave in Inghilterra attorno all'anno 1100. La sua storia si ricollega alla fortunata diffusione in tutta Europa e anche in Inghilterra dell'ordine francese dei Cistercensi, che ebbe il suo maggior centro propulsivo nella celebre abbazia di Chiaravalle, dove fu abbate il gran San Bernardo, studio a Parigi e a ritorno in patria. Fu ordinato sacerdote e nominato rettore. Nel 1132 si unì ai monaci benedettini nella nuova fondazione di Fontaine. Le sue doti di saggezza e di pietà lo posero in particolar luce tra i compagni e qualche anno dopo ebbe l'incarico di fondare il secondo monastero Cistercense, nel paese a Newminster, dove diede grande impulso alla vita di questa nuova abbazia. Come guida della nuova comunità, egli si preoccupò soprattutto della formazione spirituale dei giovani. Per loro scrisse bellissimi trattati e commenti ai libri sacri, ma le azioni più efficaci, le dette con il proprio esempio, dedicandosi alla carità e alla preghiera, strumento con cui combatteva il demonio. I monaci di Newminster poterono così additare il loro superiore, quale esempio a tutti i cistercensi e anche ai fedeli. Un esempio la cui efficacia non cessò dopo la morte avvenuta nel 1159 e seguita dagli onori riservati ai santi, anche se l'abbate Roberto non venne mai canonizzato ufficialmente dalla Chiesa. Dunque San Roberto di Newminster, ricordato oggi dalla Chiesa Cattolica. Noi apriamo la nostra consuetà rassegna stampa con le prime pagine del Quotidiano Il Centro. Partiamo dall'edizione di Pescara per vedere quali sono i titoli principali. Ovviamente anche oggi sui giornali, grande spazio alla tornata elettorale di domenica scorsa, i commenti proprio su quello che è accaduto dopo il voto in Abruzzo, in particolare in 72 amministrazioni. Vediamo dunque la prima pagina del Centro, edizione di Pescara. Vedete il titolo principale, voto Luciani, sindaco più amato. L'uscente primo cittadino di Francavilla al mare è stato riconfermato sindaco di Francavilla con oltre il 66% di preferenze e dunque di consenso da parte degli elettori. Ma vediamo il PD arretra in tutto il pescarese le preferenze, poi comune per comune. Vediamo anche gli altri titoli. In alto ovviamente si parla del Pescara, Pescara febbre da Serie A, maxischermo in Piazza Salotto. Ovviamente si parla soprattutto della gara di giovedì sera alle 20.30 a Trapani, dove sarà in palio la promozione. Poi basket Serie B, l'amatori Pescara manda KO Montegranaro. Ora si giocherà la bella in terra marchigiana. Vediamo anche qualche titolo di cronaca, Pescara un altro stop al Sanzificio e poi Montesilvano abusi sessuali dirigente licenziato. Poi la ASL assume 62 infermieri in arrivo nuovo personale per evitare la paralisi estiva. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara. Andiamo a vedere l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del quotidiano d'Abruzzo. Poi vedremo anche le altre edizioni, anche nell'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro. Ovviamente grande spazio alle elezioni e ai commenti per quanto riguarda la tornata elettorale di domenica scorsa. Vedete Lanciano e Vasto caccia alle civiche, civiche che sta per liste civiche. Due centri in provincia di Chieti dove si è votato, centri importanti. e nelle pagine interne del centro ovviamente si parla di apparentamenti per il ballottaggio. Ci sarà il ballottaggio sia a Lanciano che a Vasto. Vedete la fotonotizia, la stretta di mano tra i due candidati sindaco a Vasto, Menna e Desiati. Poi la cronaca in alto. Innanzitutto la festa dell'armia a Chieti. I carabinieri abruzzesi vigileranno sulla figlia del loro collega assassinato. E poi cronache che arrivano da Chieti, Chieti e provincia. Spaccio, le mozzarella come copertura della droga. E poi operai nei guai, Sevel truffata con i congedi in quattro a giudizio. Poi tornando alle elezioni, Luciani, il sindaco più amato. L'abbiamo visto anche dall'edizione di Pescara del centro. Andiamo a vedere ora l'edizione di Teramo del quotidiano Il Centro. Anche qui ovviamente grande spazio per quanto riguarda le elezioni. In particolare in provincia di Teramo si è andati al voto a Roseto degli Abruzzi. Dove ci sarà un ballottaggio tra il sindaco uscente Enio Pavone e il candidato del centro-sinistra di Girolamo. Tra qualche istante vedremo, appena si aprirà la pagina dell'edizione di Teramo del centro, anche i titoli che riguardano la provincia di Teramo. Vediamo se... Ecco qui la prima pagina del centro-edizione di Teramo. Roseto, che sfida di Girolamo Pavone? Ne parlavamo qualche istante fa. Li vedete nella foto. Il candidato PD e il sindaco uscente verso il ballottaggio separati da pochi voti. Tutte le preferenze comune per comune negli altri centri confermati. Tre sindaci a Cortino ricorso contro Minosse che ha vinto di un solo voto. E poi le cronache. A Teramo, Iguai di Brucchi, bilancio in aula. Si rischiano altre defezioni. Giulianova, erba alta e proteste. In periferia. E poi in alto una notizia, un'ennesima tragedia in autostrada. Camionista di Atri muore a Venezia. In un tamponamento e restando ad Atri, ma per altre questioni, il comune di Atri è a rischio dissesto. E allora andiamo a chiudere con l'edizione dell'Aquila di Avezzano e Sulmona del quotidiano Il Centro. Poi andremo a vedere anche qualche titolo dei quotidiani dei giornali nazionali oggi in edicola. Poi vedremo anche i titoli dei quotidiani sportivi. Allora, vediamo la prima pagina del centro. Edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Casini fa il vuoto, Dimasci insegue. Siamo a Sulmona in questo caso dove si va al ballottaggio. Tutte le preferenze comune per comune. E poi in alto, ad Avezzano, il palazzo inagibile. 24 famiglie costrette a vivere in tenda. L'Aquila, progetto case e consumi. In arrivo il bollettone. Poi ancora le cronache. L'ascensore è rotto, disabili fuori dall'ufficio. Sempre all'Aquila, abitazione svaliggiata. Cresce l'allarme. Allora, possiamo lasciare le prime pagine delle edizioni del quotidiano Il Centro. Andiamo a fare tra pochissimo a vedere i titoli di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Andremo a vedere quali sono i titoli, anche in questo caso, che riguardano soprattutto le elezioni anche in campo nazionale, perché si è andati al vuoto in grosse città, a Roma, a Milano, a Napoli, tanto per fare qualche esempio, anche a Torino. Parliamo dunque delle elezioni, dai titoli dei principali quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Renzi Deluso, ora mi occupo del PD. Queste le parole del Primo Ministro, che è anche segretario nazionale del Partito Democratico. Commissario a Napoli, nuovi dirigenti al Sud, il centrosinistra teme l'asse tra Cinque Stelle e Lega. E poi vedete ovviamente i richiami alle elezioni, più in basso. Di Maio, Noi Serie, i ballottaggi, niente patti, segreti. E poi c'è un approfondimento di Antonio Polito sul centrodestra, che non è morto, ma servono capo e progetto. Andiamo avanti, vediamo un altro titolo per quanto riguarda i quotidiani oggi in edicola. Quotidiani nazionali, fatto quotidiano. Renzi non ho vinto né perso, ma il PD ha il 22% di voti in meno. Dunque c'è stato un calo anche sensibile. Vediamo in alto, ballottaggi il risico delle alleanze, tutti contro il Premier. Poi Verdini, inesistente nel Paese, è decisivo nei palazzi romani. Poi vedete un titolo che riguarda la situazione dei migranti. C'è del marcio nel piano del Governo in questo articolo del Fatto Quotidiano. Andiamo avanti, siamo al Gazzettino di Venezia. Elezioni, la delusione di Renzi. Il Premier dice, sono insoddisfatto. E commissaria Napoli, Zaia, Governo punito. Ora sfida per l'autonomia, dice l'esponente leghista, nonché presidente della Regione Veneto. E poi vedete in alto due notizie che arrivano proprio dal Veneto. Porto Gruaro, scontro, Tratiru, morto in A4. E poi Venezia, falsi Rolex in spiaggia, ma per il Tribunale non è reato. Andiamo avanti, siamo al quotidiano libero. Politica con i tacchi a spillo, comandano le donne. Le vedete in questa foto. È l'ora della riscossa femminile. La raggi del Movimento 5 Stelle, Regina di Roma, stacca tutti gli avversari. La Appendino, Movimento 5 Stelle, tallona Fassino a Torino. A Milano, la Gelmini, salva Forza Italia. E la Meloni, forte del voto, attacca Berlusconi. Le vedete tutte e quattro in questa foto del quotidiano libero. Siamo al manifesto. Ex voto, questo è il titolo del quotidiano di sinistra. Un elettore su quattro in fuga dal PD rispetto alle comunali del 2011. Questo è il dato che emerge, ma le dimensioni del tracollo sono ben peggiori se il voto di domenica è paragonato con le elezioni politiche. Le europee, una debacle che assesta un durissimo colpo al partito renziano. Il premier ammette, non sono soddisfatto. E poi siamo al mattino di Napoli. Napoli, crollo del PD. Renzi a zera i vertici perché la situazione è più difficile proprio in Campania. La città per noi è un baco. Serve un commissario deluso dal voto nei comuni. Infatti a Napoli il PD è fuori dal ballottaggio. Si contenderanno la carica di primo cittadino. L'uscente De Magistris è l'esponente del centrodestra Lettieri. De Magistris Lettieri. All'ultima sfida li vedete nella foto. Noi lasciamo i quotidiani nazionali oggi in edicola. Andiamo a vedere invece i titoli dei principali quotidiani sportivi che sono oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport. San Inter amala. Infatti il gruppo cinese Sanning compra il 68,55% del club. Dunque maggioranza cinese per l'Inter. Anche il Milan potrebbe passare ai cinesi. In questo caso la trattativa si presenta un po' più difficile, più complicata, soprattutto più lunga. In alto l'Italia. Buona l'ultima. Ultima amichevole prima degli europei. Candreva il rompighiaccio. De Rossi gol. Batte Motta. Vittoria 2-0 a Verona. Degli azzurri di Conte contro la Finlandia. Andiamo a vedere il Corriere dello Sport. L'Italia c'è battuta la Finlandia. 2-0 ora gli europei. Gli azzurri bene nell'ultimo test prima del Belgio. In gol Candreva e poi De Rossi appena entrato. Conte, questa squadra, merita di fare strada. E poi a proposito di nazionale, Ventura oggi diventa CT. Grana Lippi diventerà CT e prenderà il posto di Conte che lascerà subito dopo gli europei per andare ad allenare il Chelsea. E chiudiamo con tutto a sport. Pjanic l'assegno c'è. Il Bosnieco è il primo obiettivo dei bianconeri. Ovviamente si parla della Juventus. In questo caso pronta l'offerta per convincere la Roma. Lasciamo dunque ora anche i quotidiani nazionali sportivi in edicola. Possiamo partire e ripartire in questo caso dal centro per andare a vedere qualche titolo di cronaca regionale da parte proprio del quotidiano d'Abruzzo. Ovviamente si parla di elezioni anche nelle pagine regionali. Vedete l'Abruzzo al voto, Luciani e Gero Solimo. Ecco i veri vincitori. Uno sbanca Francavilla ed è Luciani che è stato riconfermato sindaco. L'altro decisivo a Sulmona. E non solo. Vedete in alto alcuni dei protagonisti della tornata elettorale. Allora io direi con il primo servizio di andare ad ascoltare proprio il neo rieletto, anche se bisognerà attendere proprio per la rielezione ufficiale, per la comunicazione ufficiale, il neo rieletto sindaco di Francavilla al mare, Antonio Luciani. Antonio Luciani si conferma sindaco del comune di Francavilla al mare. Per il primo cittadino uscente si è trattato di un vero e proprio trionfo, andando al di sopra del 65% delle preferenze. Appoggiato dal Partito Democratico e da altre quattro liste civiche, Luciani ha lasciato le briciole ai tre sfidanti. Il candidato del centrodestra, Pantaleone Alessandro Mantini, supera appena il 15% e precede di quasi due punti Livio Sarchese del Movimento 5 Stelle. Ancor più distaccato, appena al di sotto del 6%, Stefano Di Renzo, sostenuto da Abruzzo Civico e altre due liste. Luciani può così proseguire il suo percorso amministrativo iniziato cinque anni fa. Questo è il commento del confermato sindaco e dell'assessore regionale Silvio Paolucci. Noi accogliamo tutti a braccia aperte perché non siamo di quelli che vogliono fare i presuntuosi, ma anzi c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Siamo qui, siamo disponibili al dialogo, lo siamo sempre stati. Ultimissima, Luciani a chi dedica questa vittoria? Beh, alla mia famiglia principalmente che mi sopporta da cinque anni e mi dovrà sopportare per altri cinque. Quei miei colleghi di lavoro che dovranno fare a meno della mia presenza quotidiana e soprattutto uno splendido gruppo che si è creato in questi cinque anni, che si è accresciuto con queste ultime elezioni. Quindi veramente insieme siamo Francavilla che è il nostro slogan. È un risultato che viaggia intorno al 70% e io credo che abbia premato un ottimo lavoro svolto dal sindaco Luciani e dalla sua squadra in questi cinque anni. A questo punto la domanda è d'obbligo, ne parlavamo anche con altri ospiti che abbiamo ascoltato prima, è stato fondamentale ricucire quella frattura che si era creata qualche tempo fa qui a Francavilla. È stato molto importante quel passaggio, ma certamente è stato determinante il lavoro svolto da Luciani in questi cinque anni. Onore al merito, no? Dunque queste le dichiarazioni del sindaco di Francavilla Antonio Luciani e anche dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Torniamo alle pagine del centro, l'analisi del voto, vedete sotto in basso Movimento 5 Stelle, i grillini ripartono dal risultato di Penne dove c'è stata la sconfitta del centro-sinistra. E poi sulla destra, invece nell'altra pagina, i dubbi di PD e Forza Italia, paghiamo le divisioni. E poi in basso c'è una dichiarazione di Giulio Borrelli che dice che il civismo funziona quando è autonomo. Andiamo avanti, Lanciano, Pupillo, noi premiati dai cittadini, D'Amico no, vi hanno bocciato. Ovviamente ci sono versioni contrastanti sull'analisi del voto, in questo caso siamo a Lanciano. Ecco le due ipotesi di Consiglio Comunale, se al ballottaggio vince il sindaco uscente, entra la Valentina Maio, che è candidata, proprio la presidentessa del Lanciano, con il sindaco uscente Pupillo. Se invece al secondo turno la spunta l'esponente di centro-destra, un seggio va a noi con Salvini. Vedete proprio nella foto Mario Pupillo, sindaco uscente di Lanciano, e il suo antagonista Enrico D'Amico, esponente del centro-destra. E poi vedete ancora Lanciano, la Paolucci, la terza classificata in queste elezioni, con il 22,67%, ora apre ad un possibile accordo. Vedete anche i numeri per quanto riguarda il voto a Lanciano, 39,47% per Mario Pupillo con 8.372 voti, e poi 37,87% per Enrico D'Amico con 8.033 voti. Vedete differenza di poche centinaia di voti, poi staccata Tonia Paolucci con il 22,67%, e 4.808 preferenze. Andiamo ancora avanti, da Lanciano a Vasto, restiamo in provincia di Chieti, anche qui ballottaggio fra centro-destra e centro-sinistra. Menna dice il dialogo è aperto a tutti, Menna, esponente del centro-sinistra, Desiati del centro-destra, dice a noi i voti degli scontenti. E dunque vediamo anche a Vasto l'analisi numerica, diciamo, del voto. Il più votato è stato proprio Massimo Desiati, tra l'altro ex assessore regionale, che ha avuto il 34,28%, con 8.426 preferenze. Poi al secondo posto, distaccato di poco meno di 300 voti, c'è appunto Francesco Menna, 33,31%. Poi gli altri con Ludovic Aceri, al 20,25%, con quasi 5.000 preferenze. Poi Edmondo Laudazzi, 9,48%. Infine Massimiliano Montemurro, con il 2,69%. E in questo caso si parla anche del Movimento 5 Stelle, che cresce e non fa accordi. E poi in questo articolo di spalla ci sono le ipotesi, le due nuove ipotesi, sul Consiglio Comunale, in caso di vittoria del centro-destra o del centro-sinistra. Poi vedete in quest'altra pagina passante l'analisi del voto in alcuni centri, in provincia di Chieti, dove si è andati appunto al voto Rocca San Giovanni. Diritto sindaco per altri cinque anni, stacca Verì di 353 preferenze. Farà San Martino, De Vitis si prende la rivincita. Ad Archi, Troilo eletto per cinque voti. E poi Casoli, Tiberini e il nuovo sindaco, Barrella ha battuto per 470 voti. E poi Scerni, Ottaviano, Scalza, Pomponio ha vinto il rinnovamento. Tra qualche istante parleremo ovviamente di meteo con il nostro Giovanni De Palma. Vediamo ancora queste due pagine che riguardano in questo caso la provincia di Teramo. In particolare il centro più importante dove i cittadini sono andati al voto. Si tratta di Roseto degli Abruzzi, dove ci sarà il ballottaggio tra il sindaco uscente Ennio Pavone e l'esponente del centro-sinistra di Gironamo che dice al ballottaggio dobbiamo unire il centro-sinistra, il candidato sindaco del PD e in testa ed è stato avvantaggiato anche dal voto disgiunto Pavone rincorre ad una distanza comunque minima di 152 voti. Nella coalizione civica inizia la resa dei conti contro la Ciancaione. Vediamo dunque il computo numerico di queste elezioni a Roseto. Il primo per quanto riguarda le preferenze è appunto Salvatino di Gironamo, 35,95 con 5.234 voti, 34,90 per Ennio Pavone, 5.082. Più staccata Rosaria Ciancaione, 29,13 con 4.242. E poi vedete quest'altra notizia a Teresa Ginobile, lo scettro delle preferenze quanto riguarda le elezioni a Roseto. Vedete poi in basso si parla della Ciancaione che dice ho fatto tutto il possibile, ci ho creduto, le parole amare della sconfitta Ciancaione, del Pidio dice, le nostre liste hanno più voti di quelle del PD. E poi vedete ovviamente c'è sempre l'articolo su quello che potrebbe essere il nuovo Consiglio Comunale, ovviamente le due ipotesi in caso di vittoria del centro-sinistra o del centro-destra. Allora, sono le 7 e 22 minuti e possiamo dunque aprire la consueta pagina dedicata al meteo. Come sempre, come di consueto, ogni mattina lo facciamo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, cosa ci dobbiamo attendere per le prossime ore, anche per i prossimi giorni? Oggi sembra, almeno vedendo fuori dalla nostra finestra, che il tempo è buono, c'è il sole, potrebbe essere, sarà una buona giornata quella odierna. E poi quali sono, diciamo, le previsioni per le prossime ore e per i prossimi giorni? Eh sì Paolo, sarà una giornata comunque ancora caratterizzata, insomma una giornata dai due volti, perché se da un lato al mattino, nelle prossime ore avremo tempo soleggiato su gran parte del territorio regionale con banchi di nebbia nelle valli dell'Aquilano in diradamento nelle prossime ore, però c'è da segnalare ancora la persistenza dell'instabilità. Ciò vuol dire che durante le ore centrali della giornata, ma soprattutto nel pomeriggio, tardo pomeriggio, torneranno a svilupparsi, a formarsi dei temporali, soprattutto sulle zone montuose. Quindi avremo queste formazioni temporalesche che complici le correnti favorevoli, però stavolta interesseranno, si estenderanno soprattutto verso l'Aquilano e verso la Marsica e verso l'Alto Sangro. Quindi le zone interne saranno interessate da fenomeni temporaleschi nelle prossime ore. Non si escludono comunque temporali anche sulle zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, ma questi fenomeni che localmente potrebbero essere anche di una certa consistenza, che arriveranno poi ad attenuarsi a partire dalla tarda serata e nel corso della nottata. Ma non finisce qui Paolo perché ancora una volta l'instabilità tornerà a manifestarsi nella giornata di mercoledì, soprattutto a partire dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio sera, con formazioni temporalesche che stavolta però torneranno ad estendersi ancora una volta verso il settore orientale della nostra regione. Quindi saranno interessate le zone pedemontane, le zone collinarie, localmente anche le aree costiere nel tardo pomeriggio sera di domani. Poi, come avevamo già annunciato nei giorni scorsi, il tempo probabilmente peggiorerà ulteriormente a partire da giovedì perché interverrà una discesa di masse d'aria fresca provenienti dall'Europa centro-settentrionale che scivoleranno proprio verso le regioni adriatiche. Ciò favorirà, determinerà un'ulteriore intensificazione dell'instabilità sulla nostra regione. Non solo, quindi avremo formazioni temporalesche probabilmente anche di forte intensità già dal primo mattino in ulteriore sviluppo durante l'ora centrale della giornata nel corso del pomeriggio. Ma stavolta i temporali saranno probabili anche lungo la fascia costiera già dal primo mattino. Quindi una situazione questa da segnalare, Paolo, è una situazione che probabilmente continuerà ad interessare la nostra regione anche nella giornata di venerdì, mentre probabilmente nella giornata di trasampo e domenica assisteremo a un temporaneo miglioramento del tempo perché è prevista, almeno stando ai dati attuari, una temporanea rimonta dell'alta pressione al centro-sud. Però si tratta comunque di una rimonta così, che durerà poco e che sarà seguita probabilmente a partire dalla seconda metà della giornata di domenica, da un nuovo peggioramento che poi si manifesterà ancora di più nei primi giorni della prossima settimana perché interverranno intense perturbazioni atlantiche. Insomma, detto questo, bisogna dire che la stabilità è ancora molto lontana, Paolo. Quindi questa situazione di instabilità e questa situazione caratterizzata dall'arrivo di perturbazioni atlantiche continuerà ad essere tale, almeno probabilmente per tutta la prossima settimana, anche se ovviamente non è possibile spingersi oltre. Ma comunque questo è quello che emerge, osservando gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici. Paolo. Dunque, notizie non proprio positive, Giovanni, per quanto riguarda l'evoluzione meteo per le prossime ore e i prossimi giorni. Prima di salutarci, una curiosità. Appassionato di calcio, quale sei? Giovedì si giocherà questa gara allo stadio provinciale di Trapani, tra Trapani e Pescara. Se è possibile, possiamo fare anche una previsione su quelle che saranno le condizioni meteo giovedì sera in terra siciliana? Guarda, vedendo la situazione attuale, comunque diciamo che anche a Trapani, paradossalmente, potrebbero esserci dei fenomeni di instabilità, soprattutto in serata. Quindi questa è una situazione da segnalare, ma il tempo peggiore probabilmente lo ritroveremo sulla nostra regione. Paolo, con dei rovesci diffusi, probabilmente in intensificazione nel pomeriggio sera. Questa non è una buona notizia, perché poi ho letto anche dei maxischermi allestiti. Insomma, si tratta di una situazione da comunque monitorare. Vedremo poi se nel dettaglio ci sarà comunque una fase, diciamo come solitamente accade, con schiarite, con una tregua proprio durante le ore serali. Però adesso non è possibile saperlo con largo anticipo. Quel che emerge, insomma, che il tempo tornerà a peggiorare e lo farà in maniera decisa a partire da giovedì, ma ancor più nel corso della prossima settimana. Paolo. Grazie, grazie a Giovanni De Palma, buona giornata, buon lavoro, appuntamento ovviamente con te domani, sempre intorno alle 7.20 nel corso di mattino 6. Buon lavoro Giovanni. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma per restare informati. Gli strumenti ormai li conoscete, li conoscete bene. Il sito www.abruzzometeo.org, eccolo qui inquadrato, con tutte le previsioni aggiornate, è il caso di dire minuto dopo minuto, e poi la pagina Facebook del nostro meteorologo, anche in questo caso utile strumento per restare sempre aggiornati sulle previsioni meteo che riguardano la nostra regione. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6, proseguiamo nella lettura dei nostri quotidiani. Siamo al centro, provincia di Teramo, Bellante, Melchiorre, Stacca, Chiavetta, Castellalto, Di Marco, un dominio, Doardi dice il paese non vuole cambiare, Colonnella, Polastrelli, conferma netta, Basciano, Frattaroli, la gioventù al potere, poi Cortino, Tiberi pronto al ricorso dopo la sconfitta. Per un solo voto andiamo avanti, siamo a Francavilla, Luciani, una lista seria mi ha aiutato a rivincere, abbiamo ascoltato pochi minuti fa proprio il neo rieletto sindaco di Francavilla al mare, gli sconfitti non mollano, ora lo controlleremo, dicono in particolare Mantini, Sarchese, anche Direnzo. San Giovanni Teatino, Marinucci, sul classa LPD e raddoppia il mandato, rieletto anche il sindaco di San Giovanni Teatino, sconfitto invece Verino Cardarelli, appenne la sorpresa, Semproni rompe l'egemonia di sinistra, Geriatra, 63 anni, vince per 70 voti di vantaggio su Luca Falconetti del Movimento 5 Stelle. E poi vedete ancora dati che arrivano da alcuni centri in provincia di Pescara, in provincia dell'Aquila, Popoli è confermato il sindaco uscente Concezio Galli, a Manopello crolla il PD e De Luca torna in sella dopo 10 anni, a Carapelle Calvisio di Cesare, mister 36 preferenze, confermato la carica di sindaco, torna in parte Cernicelli, Spodesta, Gian Maria. Proseguiamo sul Mona, Casini, Dimasci, duello rinviato, ma il prof è indietro di 2600 voti, dunque si affronteranno al ballottaggio, vediamo Anna Maria Casini con il 44,75% e Bruno Dimasci piuttosto staccato con il 26,16%, poi gli altri candidati che sono ancora più staccati, Alessandro Lucci, il 12,20%, 1756 preferenze, Alberto Di Giandomenico con il 6,29% e 905 voti. E poi c'è l'intervista all'assessore regionale Gero Solimo che dice, fine di un'epoca. Andiamo ancora avanti, proseguiamo, vedete altre pagine sulle elezioni, Ortucchio, Daulerio e Favoriti pareggiano, sarà ballottaggio il 19 giugno, Civita Tantino tra Di Francesco e Cicchinelli, stessi voti e sfida rimandata. Tagliacozzo, Giovagnorio, via una nuova stagione, Civitella, Roveto, De Filippis, rispolvera la fascia tricolore. Andiamo ancora avanti, siamo arrivati alle pagine della cronaca di Pescara, dunque possiamo proseguire, poi torneremo dalle pagine del Messaggero e del Codidiano della Città a vedere altri titoli che riguardano le elezioni, ma parliamo di cronaca, in questo caso cronaca nera, rapina all'invalido con una mazza da baseball, tre giovani arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara. Ieri mattina c'è stata la conferenza stampa presso il comando di Viale D'Annunzio. Andiamo a vedere il servizio realizzato da Francesca Romana Testi. Una banda specializzata in rapina ad anziani, tre i giovani coinvolti, uno di quali minorenne, ad arrestarli i carabinieri del comando provinciale di Pescara dopo la denuncia del fratello della vittima, raggirato inizialmente ed in seguito picchiato. La storia era iniziata il marzo scorso, l'uomo, un disabile, veniva regolarmente derubato della sua pensione di invalidità, 280 euro, spesso una parte, altre volte l'intera somma. Ed è proprio questo dettaglio a fare insospettire il fratello, poiché la vittima, minacciata di ritorsioni, non aveva chiesto aiuto. Questa è una cosa veramente estremamente squallida. Sono tre persone che si sono così, hanno acquisito la fiducia di questo disabile, lo hanno circuito e sistematicamente negli ultimi 3-4 mesi, nel momento in cui gli arrivava la pensione, che erano poche centinaia di euro, non esitavano anche a picchiarlo, anche in maniera molto violenta, per portargli via quel poco che aveva ogni mese. Quando poi il fratello disabile gli ha raccontato quelle che erano state le vicissitudini dei mesi precedenti, è venuto subito il carabiniero a denunciare il fatto. Noi abbiamo aspettato il giorno di consegna della pensione e quando sono andati a prendere i soldi, oltre ai soldi, hanno trovato anche i carabinieri. A Pescara nell'anno in corso sono 23 i casi di raggiri ad anziani. Spesso le vittime ricevono telefonate nelle quali sedicenti, forze dell'ordine, avvertono di un familiare in pericolo e del bisogno di denaro per aiutarle. Le vittime prese dal panico cadono nell'inganno e così oggi, alla luce dei dati, parte un accorato appello sulle accortezze da avere per non subire raggiri, soprattutto verso gli anziani. Bisogna denunciare innanzitutto ogni cosa che accade, bisogna fare attenzione a telefonate strane che pervengono a casa con richieste di soldi. Non vanno dati, non è con i soldi che si risolve qualunque tipo di problema. Telefonate ai carabinieri, telefonate alle forze dell'ordine in generale, fate anche più chiamate, pretendete personale indivisa che venga a casa, solo così potete essere sicuri di avere di fronte un vero carabiniere. Abbiamo visto nell'intervista il comandante provinciale dell'arma Piccinelli che a settembre lascerà Pescara, verrà trasferito al suo posto, arriverà un nuovo comandante, si tratta di Niro. Vedete questa notizia proprio sotto il titolo che riguarda la rapina all'invalido. E poi truffa telefonica con falsi incidenti, 20 casi, ne parlava proprio il comandante provinciale Piccinelli. E poi in basso, cambiando argomento, dalla Curia pochi aiuti, ai e precari e secca replica Valentinetti degli interi na lidattiva, solo pasti serali per sette giorni. Andiamo avanti, Alessandrini blocca il nuovo sansificio, notificata un'altra ordinanza dal primo cittadino. E poi la città, questo pomeriggio, riabbraccerà il professor Alessandro Angelucci, morto in un incidente durante un'escursione lunedì scorso in Turchia, camera ardente presso il Media Museum alle 16.30. Ci saranno le esequie nella cattedrale di San Cetteo. E poi ancora cronaca giudiziaria, in questo caso D'Ambrosio, due anni e otto mesi. Per peculato il partito del lato, l'ex presidente assolto dall'accusa di avere comprato la laurea, scagionato anche il professor Panzone. E poi a centropagina, Kerr, cittadino onorario di Pescara, riconoscimento allo scienziato dell'astrofisica che dice una terra meravigliosa. E poi in basso, Galilei all'uniscena con Shakespeare al Media Museum. Proseguiamo, ancora pagina di Pescara, la ASL sfida la regione, assume 62 infermieri. E poi a centropagina c'è un'intervista alla responsabile della soprintendenza Abruzzo, Maria Giulia Picchione, che parla delle decisioni prese proprio dalla soprintendenza per lo stadio, il Ponte del Cielo, la questione dei pini da tagliare nel centro di Pescara. Siamo alla pagina di Montesilvano del centro, dirigente licenziato per abusi sessuali. Il comune manda via di Donato dopo la denuncia di una donna. I carabinieri indagano su un episodio in municipio. E poi più in basso parte il bando, le spiagge libere in gestione. Proseguiamo, pagina di Chieti. Deborah, carabiniere come il papà eroe, i nostri angeli, in divisa, festa dell'arma ieri con la cerimonia che si è tenuta presso la regione carabinieri Abruzzo di Chieti. Festa dell'arma dedicata proprio al maresciallo Mirachi, ucciso dagli spacciatori. I colleghi vigileranno sulla figlia che studia a Chieti. Vedete nella foto alcune immagini della cerimonia che si è tenuta ieri. E poi in basso cronaca la droga spacciata insieme alle mozzarella. Il PM chiede il processo per 18 imputati di Chieti e Francaville al mare. Siamo alla pagina di Teramo del centro. Camionista di Atri muore a Venezia. La vittima è il 58enne Guerino Pavone. Il suo tir coinvolto in un maxitampone a mezzo tra mezzi pesanti sulla A14. E poi in via Dati a Teramo, violento litigio per la viabilità tra calci e minacce con il Cric. E poi cane biancone, il caso in tribunale. Topitti e Schillaci accusati di aver diffamato Olivieri su Facebook. E poi in basso da Civitella i paradenti per gli azzurri a Rio. Per quanto riguarda le Olimpiadi siamo arrivati alle pagine dello sport del centro. Dobbiamo andare a vedere però invece le pagine del Messaggero e poi del quotidiano della città. Partiamo dal Messaggero. Ovviamente le prime pagine dell'inserto Abruzzo sono dedicate alle elezioni. Casini, sorpresa, tre comuni in ebilico, questo è il titolo principale. Amministrative, Francavilla, Stravince, Lucente e Luciani. Sul Mono ha sfiorato il colpo al primo turno. Ballottaggi combattuti a Vasto, Lanciano e Roseto. Masale, l'astenzione, uno su tre è rimasto a casa. E poi Equitalia, Chieti accorpata a Pescara. E poi Montesilvano, sesso in comune, dirigente licenziato in tronco. Proseguiamo, ci sono le pagine delle elezioni, Luciani senza rivali riparte dai cantieri a Francavilla. Penne, Semproni, Gela il PD, Tagliacozzo a Giovagnorio. In basso Di Marco, Pollastrelli e Minosse al BIS e tre new entry, questo in provincia di Teramo. E poi a Sulmona, Gerosolimo quasi sbanca con la Casini. Noi per Sulmona ha sfiorato l'ancor più clamorosa vittoria al primo turno. A Prezza vince la moglie dell'assessore Roccaraso. Di Donato può fare il BIS, torna in parte Boccia, Giammaria, Immarsica, niente di nuovo. Andiamo ancora avanti. Rivincita di Di Girolamo, più voti di Pavone. Sindaco uscente, il candidato del PD e la rivelazione sfiderà il primo cittadino uscente. Ciancaione sale fino al 29%, a 800 voti dai due sfidanti. E dunque a Roseto degli Abruzzi ci sarà il ballottaggio. Nel prossimo servizio possiamo andare a vedere insieme l'analisi del voto. che c'è stato domenica nella cittadina in provincia di Teramo. A Roseto degli Abruzzi il candidato sindaco più votato è Sabatino Di Girolamo, che ha ottenuto un consenso del 35,95%. Quindi arriverà al ballottaggio con un leggero vantaggio sul sindaco uscente Enio Pavone. Sconfitta invece Rosaria Ciancaione, che ha ottenuto il 29,13% dei consensi. Il candidato sindaco del centro-sinistra, Sabatino Di Girolamo, non è sorpreso per il risultato ottenuto e ringrazia i rosetani. Non nascondo che non sono rimasto completamente sorpreso dal risultato. Ringrazio naturalmente tutti coloro che mi hanno votato e questo ancora di più mi fa sentire onorato e onerato, perché sarà una grande responsabilità quella di fare il sindaco con una fiducia così grande sulle spalle. Spero che fra 15 giorni mi confermino questa fiducia e darò tutto me stesso a questa città, proprio perché mi ha dimostrato affetto, fiducia, stima. Cosa si aspettava questo testa a testa? Diciamo che sostanzialmente era prevedibile. Ovviamente ognuno di noi pensava e diceva che si potesse vincere, tutti e tre lo dicevano, che si potesse vincere al primo turno, però diciamo che visto il risultato importante che ha avuto anche la Sciancaione perché ha preso più di 4.000 voti, quindi un risultato anche che va oltre quello che si pensava potesse avere e anche un'affluenza anche maggiore rispetto alle previsioni. Personalmente come commenta questo dato dopo 5 anni di amministrazione? Personalmente, ripeto, è un dato incoraggiante perché comunque dopo 5 anni difficili e con due supercorazzate, perché qui si sono schierati, qui a Roseto, i due deputati, la provincia di Termo ha tre deputati al Parlamento italiano. Sostanzialmente è quello che nelle previsioni generali poteva essere. Rosaria Ciancaione non andrà al ballottaggio, ma vista la candidatura messa in piedi nel giro di soli due mesi, è un ottimo risultato questo? Ma sì, è un ottimo risultato, ovviamente speravamo di arrivare al ballottaggio perché pensavamo che poteva essere un risultato alla nostra portata in realtà. Ci siamo. Abbiamo sfiorato perché alla fine a occhi e cross sono mancati 700-800 voti, insomma, sì, un risultato sicuramente soddisfacente, ma io avrei sperato di andare al ballottaggio. Ci sarà un apparentamento? Ma guardi, adesso noi abbiamo sicuramente impostato un discorso di partecipazione, di coinvolgimento di tutti, quindi adesso intanto più che pensare a quello che succede adesso con il ballottaggio, pensiamo a rimettere a posto le cose, a vedere un attimo cosa vogliamo fare per il futuro e a costruire soprattutto una classe politica nuova. Vediamo ancora altre notizie che riguardano il voto. Galli bis a Popoli, De Luca e Zaccagnini guastano i sogni del PD, si tratta di Manopello e Toc Casauria. In questo caso, Vasto al ballottaggio, Desiati Menna al veleno e poi Lanciano, pupillo d'amico, sprint, volano subito le prime bordate. Avevamo ascoltato gli esponenti che andranno al ballottaggio a Vasto e Lanciano, anche ieri nel corso del TG6 e nella maratona elettorale di domenica notte. Poi ancora una notizia che riguarda proprio il voto, sale l'astenzione, il partito da temere. Siamo alla cronaca di Pescara, sempre dal messaggero Ato, nessuno scandalo, tutti assolti a Giorgio D'Ambrosio, l'unica condanna ma perpeculato, ha usato il telepass dell'auto di servizio, dice D'Ambrosio. Chiarirò in appello e poi l'ordinanza del sindaco Alessandrini, puzza continua, il primo cittadino ferma il sanzificio e poi in basso Roy Kerr diventa pescarese, lo scienziato dei buchi neri. Vedete la foto sulla cerimonia di ieri in comune a Pescara, sesso in ufficio, dirigente licenziato a Montesilvano e poi cronaca, rapinavano un invalido prendendolo a bastonate. Abbiamo visto il servizio proprio sulla conferenza stampa dei carabinieri. Siamo all'Aquila, rifiuti, la SM vuole fare multe come la polizia municipale, poi raid nella casa inagibile di una nota imprenditrice. Ancora l'Aquila, carabinieri successo all'open day con gli studenti, uccise ex moglie al supermarket ma non ci fu premeditazione. Ancora l'Aquila, torna alla fiera di San Massimo, saranno 120 gli espositori per l'antica tradizionale e cittadina fiera dell'Aquila e poi summit di Cascere con i fedelissimi, confermata la candidatura a sindaco. Siamo ad Avezzano e poi ancora Avezzano, avanti al GUP oggi il delitto del garage. Poi sul Mona, via stazione Introdacqua, pericoloso via ai lavori. Siamo alla pagina di Chieti del messaggero, carabinieri giù furti e rapine. Aumentano i reati sessuali. Ieri la cerimonia proprio presso il comando regionale. In basso lavoro, Sevel per Messi Blef, per la 104, operai a processo. Siamo a Teramo, fra Cassa e Chiarini. Per me sono nomine regolarissime. Sulla scelta dei due assessori parla ovviamente il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchio, ricevuto il parere del segretario. Il PD forse vuol stoppare la possibile nomination di Sabatino. E poi Giulianova, settimana corta in classe, riesplode la polemica. Ancora Giulianova Bande vince il Giappone. Stasera tocca alla polizia. Ancora a fondo pagina, il cane mascot biancone finisce in tribunale. Nereto si blocca la pratica per il nuovo campo sportivo. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a leggere insieme. Prima le pagine del quotidiano La città di Teramo. Anche in questo caso buona parte del giornale, oggi in edicola, dedicato alle amministrative. Vediamo la prima pagina. Exploati di Girolamo a Roseto. Questo è il titolo principale. Andiamo a vedere dunque le pagine interne. Speciale elezioni. Luciani, unico big eletto al primo turno. Sindaco riconfermato a Francavilla. Lo vedete nella foto con il sottosegretario alla giunta regionale, Camillo D'Alessandro. Che avevamo ascoltato anche i nostri microfoni nel corso della trasmissione elettorale di domenica notte. Roseto degli Abruzzi di Girolamo esploa e sfida a Pavone. Terza Ciancaione. Abbiamo visto il servizio pochi istanti fa di Elisa Leuzzo. Poi vedete ancora numeri di questa tornata elettorale con i voti ottenuti a Roseto. 35,95 per Sabatino di Girolamo, 34,90 per Enio Pavone, 29,13 per Rosaria Ciancaione. E poi Bellante, Melchiorre, il segno della continuità. L'avvocato ottiene il 50% dei consensi. E poi in basso il voto di Cortino, Gabriele Minosse. Fa il trisse per un soffio. Giallo per un solo voto decisivo. Castellalto, vittoria bulgara per Vincenzo Di Marco. E poi Colonnella, Leandro Polastrelli strappa la riconferma. Basciano, Alessandro Frattaroli, sindaco a 30 anni. Abruzzo, in questo caso si parla di cronaca regionale, non più di elezioni. Un altro passo verso la centrale unica regionale. Appalti, bandi fondi, un unico soggetto avrà il compito di razionalizzare la spesa pubblica e standardizzare le procedure. E poi Lavoro, Humangest cerca 200 profili per la stagione estiva. Cronaca, rientrata ieri sera alla Salma di Angelucci. Oggi i funerali del ricercatore universitario di Pescara. Le sequie si svolgeranno alle 16.30 presso la cattedrale San Cetteo. Cronaca, siamo a Teramo. Rissa, innebbiadati per un banale incidente. Si sfiorano con gli specchietti ed iniziano a discutere. In mezzo alla strada la situazione degenera. In spintoni, schiaffi e cric. Franco fracassa, taglia le indennità. Non decido solo io, il neossessore ai lavori pubblici. Non si sottrae il confronto dopo la dichiarazione sul taglio degli stipendi. Proseguiamo. Tiene banco la questione inconferibilità. Il grillino Berardini annuncia una segnalazione all'anticorruzione su Chiarini. La di Pasquale rincara la dose anche su fracassa. Abbiamo visto poi anche le dichiarazioni, dal messaggero abbiamo visto le dichiarazioni del sindaco Brucchi. Ancora a Teramo, emergenza Ratti in via Capuani, nidiata in festa l'ex magazzino del grande Italia. Interviene il vigile ecologico. Proseguiamo. L'anniversario dell'arma che festeggia i 202 anni. Ieri la cerimonia a Chieti. Vedete questa pagina dedicata proprio alla cerimonia dell'arma che si è tenuta ieri sera. Ancora, cronaca da Val Vibrata in questo caso. Al Badriatica, l'obiettivo del sindaco Piccioni è far scomparire la prologo. Questa la denuncia che arriva da Renato Pantoli. E poi i lavori almenti possono riprendere. Siamo a Nereto. Il parere legale del professor Cerulli Irelli rassicura l'amministrazione. E poi Tortoreto, bomba sulla spiaggia libera, vandali o avvertimento. Proseguiamo. Giulianova Mosciano, via libera al progetto Lido delle Palme. A Giulianova, per quanto riguarda poi il lungomare chiuso, commercianti sul piede di guerra. Siamo alla pagina ancora di Giulianova Mosciano con il festival internazionale delle bande musicali. Il Giappone vince questa Kermess, la Kermess del 2016. E poi pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi. Il marchio Arena a Iannascoli. In questo caso c'è un errore, come vedete nel titolo, Rosetano Iannascoli. Ma Iannascoli è pescarese, tra l'altro dirigente del Pescara. La società alimentare d'Asco acquisisce infatti sei marchi dell'ex colosso Molisano dei Surgelati. Quindi proseguiamo con la pagina della cultura, con la musica tra Beckett e Mann, l'aquila contemporanea plurale al festival concerti, incontri e tavole rotonde. Arriviamo velocemente alla pagina dello sport per quanto riguarda il quotidiano della città. Si parla del Teramo. Scelto infatti il preparatore dei portieri, Sara Grilli, trovato l'accordo con la bandiera del Teramo per completare lo staff tecnico. A disposizione di Lamberto Zauli e poi vedete in basso il Pineto a un piede e mezzo in Serie D, battuto in trasferta 1-0 il Subasio. Domenica prossima il ritorno al Pavone. E siamo alle pagine dello sport del centro e del messaggero. Ripartiamo dal quotidiano Il Centro per andare a vedere i titoli che riguardano le nostre formazioni di calcio e non solo. Partiamo ovviamente dal Pescara. Pescara ancora ha uno sforzo per conquistare la Serie A. Sale l'attesa per la gara di ritorno a Trapani, dove il Delfino dovrà difendere la vittoria nel match di andata. Non ci sarà Memushai al suo posto. Giocherà Alessandro Bruno. E poi in basso la Padula, sempre più verso Napoli. Ci sono indiscrezioni di mercato sull'attaccante pescarese che ha, con la rete segnata al Trapani, raggiunto quota 30. Febbre bianca-azzurra, tanti maxi-schermi per gli ultimi 90 minuti. E poi in casa Trapani, treguarmata Cosmi Pektovic. Noi, a proposito del Pescara, andiamo ad ascoltare un grande ex bianca-azzurro. Si tratta di Leo Junior, intervenuto via Skype ieri sera nel corso della trasmissione Replay, condotta da Enrico Rocchi. Vediamo. Ma certamente è una cosa bellissima, soprattutto perché da un po' di tempo che la città non ce l'ha la sua squadra in Serie A. E questo fa un piacere non solo ai cacciatori, non solo la società, ma soprattutto ai tifosi, che sono loro che hanno sostenuto, di quello che ho letto, di quello che so, la squadra dalla prima giornata fino ad adesso. Senti, avresti portato la Padula ai cambiamenti europei? Ma guarda, noi abbiamo bisogno nel Flamengo di una punta come la Padula, che ti garantisce almeno 20 gol a stagione. Noi, ma lui è già posto per andare in una grossa squadra. Farà il salto di qualità senza salto quest'anno. Purtroppo per i tifosi pescarese. Senti, cosa ti senti di dire ai tifosi per quest'ultima partita a Trapani, che tu seguirai sempre tramite Radio California, no? Prima è stato tranquilli, noi andiamo oltre quello che sappiamo che il calcio ci riserva ogni tanto qualche sorpresa. Però abbiamo già fatto il 75% della strada per arrivare in Serie A. È vero che vuoi anche intonare l'inno del Pescara con la tua banda? Ho chiesto lì a Remo, firmare, lui che fa la detto stampa del Pescara. Lui mi ha mandato già l'inno della mia epoca, quella viva, Pescara. Io prenderò le parole, farò vedere ai ragazzi, poi c'è Rodrigo, mio figlio, che parla bellissimo italiano, e lui suona anche con noi, se Pescara va in Serie A facciamo una registrazione e mandiamo a voi, ok? Ti abbracciamo Leo, grazie, grazie, un abbraccio forte, un abbraccio Leo. Ciao, ciao. Grazie. Sempre un piacere rivedere e risentire Leo Junior, grande bandiera del Pescara. Siamo a Lanciano, l'ultima fermata è Salerno, domani si decide la sorte della formazione rossonera e se retrocede i maio potrebbero lasciare, rientrano per questa gara della Rechi di Francesco e Giandonato. L'Otito, patron dei salernitani, dice guai a pensare di essere già salvi. E poi ancora calcio, Serie D, Chieti, si dimette Pellegrini, Pomponi e ora anche amministratore delegato. Siamo alla Lega Pro Teramo, il ritorno di Grilli, il numero uno degli anni novanti, sarà il nuovo preparatore dei portieri. E poi l'Aquila, oggi la decisione della FIGICI, i soci aspettano le nuove modalità di ripescaggio. San Domenico al Verona e poi Serie D, o perlomeno spareggi per accedere in Serie D. 90 minuti separano il Pineto dal Sogno, domenica la sfida casalinga con il Subasio, battuto per 1-0 nella gara di andata. Basket, l'Amatori fa l'impresa, play-off per la corsa verso la Serie A2. I biancorossi di coach Salvemini hanno battuto ieri sera al Palalettra di Pescara il Monte Granaro per 78-72. Passiamo alle pagine dello sport del Messaggero. Prima di salutarci, anche in questo caso ovviamente dalle pagine del Messaggero si parla in particolare del Pescara. Ricordiamo Pescara atteso dalla gara di giovedì sera alle 20.30 al Provinciale di Trapani. Ovviamente seguiremo come abbiamo sempre fatto in questa stagione, nel corso di diretta stadio, la trasmissione di Andrea Costantini in diretta da Trapani con la nostra troupe. Proprio questa gara tra i ragazzi di Cosmi ed il Pescara di Massimo Oddo. Allora andiamo a vedere le pagine dello sport del Messaggero. Messaggero prima di chiudere, sogna Pescara ma senza euforia. Il 2-0 nella finale di andata cambia l'inerzia della doppia sfida. La facilità nell'andare in gol potrebbe essere decisiva in Sicilia. Vietato però illudersi. Granata hanno giocato in dieci e giovedì saranno agguerriti. Ma l'autostima del Delfino alle stelle, quattro anni dopo, Trapani tra destino e paradiso. E poi il Napoli è sempre in pressing su di lui, si parla di Lapadula e Bucchi incorona Lapagol e dice che è un fenomeno. Tifosi, Maxi Raduno fissato in Via Pepe, come abbiamo visto anche Maxi Stermo in centro città, in piazza Salotto. Per quanto riguarda Oddo, che è tecnico del Pescara, va alla ricerca del sostituto di Memuschai. Dovrebbe giocare dal primo minuto Alessandro Bruno, potrebbe essere retrocesso anche sulla linea mediana Benali con l'impiego di Pasquato al fianco di Caprari. Vediamo altre notizie di calcio. Chieti, Pellegrini, Lascia, Pomponi sarà anche amministratore delegato. Salvataggio Giulianova, Vertice, Marinozzi, Tribuiani. La storica figura potrebbe rientrare nel nuovo club. E poi l'Aquila visiona il Gallese, Mecchenzi. Terzo posto nel torneo di 100. Donofrio se ne va, in questo caso parliamo dell'Aquila rugby. E andiamo ancora avanti. Lanciano, Mission Impossible a Salerno. Impensabile rovesciare l'1-4 casalingo, ma saranno ugualmente tanti tifosi al seguito. L'obiettivo della squadra è quello di chiudere nel migliore dei modi e programmare subito il futuro. A proposito di Lanciano, vi ricordo che domani sera nel corso di Virtustyle seguiremo ovviamente le vicende rossonere in questa gara di ritorno dei play-out salvezza. E poi ancora Lanciano, vasto la salta alla sfida di Francesco Cisarà. E poi Teramo, Lega Pro, Rosa sotto screening. Vediamo nella foto il padrone Campitelli che vuole una squadra motivata e chiede ai senatori comunque la vecchia guardia. Risposte importanti e poi parliamo di calcio e di basket. A fondo pagina, calcio, l'Aquila, la società fa quadrato per la domanda di ripescaggio. Basket, l'amatori è stata di parola, porta Montegranaro fino a gara 5 dopo la vittoria per 78 a 72 nella gara di ieri sera. Noi con il basket siamo così giunti al termine dell'appuntamento odierno con Mattino 6. Io ringrazio Gianni D'Areo in regia, voi per la cortese attenzione. Vi ricordo come sempre il primo appuntamento con il TG6 alle 14. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.